Colazione con Radio Altà, Radio Altà Il nemico del ciclista non è tanto la salita ma il vento Quando è contrario è veramente terribile Bene Ho dovuto fare anche dei pezzi con la bici a mano Perché c'era talmente tanto vento e non riuscivo a pedalare Allora, intanto siamo in Calabria Abbiamo lasciato la Sicilia bella di Vincenzo Hai nostalgia adesso della Sicilia un pochino? Un po' sì, alcune zone sì, molto belle la Sicilia Rispetto a questa parte qua, sì Aspetta, perché magari ci ascoltano i Calabri di Catanzaro Ma cosa stai dicendo? Dove sei tu in Calabria adesso, Vincenzo? Adesso sono appena oltre Catanzaro Una quarantina di chilometri dopo E sono a Crotone Ah, beh, Crotone è bellissimo C'è le castella lì a Crotone C'è il castello Le Castelle L'hai visto? Sì, sì, fatto in giro ieri Eh, è fantastico E anche il Duomo Il Duomo è interessante Hanno una... Qua c'è sempre stato il Vescovo Sì Ci sono tutti gli stemmi di tutti i Vescovi che ci sono stati Gli stemmi partono dal 1300 Ma ci sono circa una decina Forse qualcosa di più Di Vescovi presenti al 1300 Uno è datato 524 Ho capito Non 524 È 524 524 524 E è esattamente il terzo Vescovo Per cui è incredibile la storia che hanno Certo, certo Beh, insomma Hanno avuto anche diversi arcivescovi Che non so Il livello 5 di Vescovo, non lo so Il massimo dei Vescovi lì a Catanzaro Senti, ma il mare si vede dove sei tu? Perché io vedo un muro Fammi vedere la natura Invece di mura e altre cose Non c'è niente No, è un po' più distante il mare Perché ho preso un bed and breakfast Perché qui i campeggi sono tutti chiusi Per cui è un po' all'interno Diciamo Dove sono io In mezzo c'è il centro storico E poi c'è il mare Ho capito E quindi la tua prossima tappa Qual è? Ma stai facendo la strada statale La 106 La famosa 106? Esatto Che è trafficatissima Specialmente di camion Eh, occhio eh Perché è una strada anche stretta Quindi bisogna fare molta attenzione Prudenza Caro pedalatore Allora Intanto vedo che la bicicletta È sempre lì La bandierina di Radio Alta Il logo di Radio Alta Che sta facendo Guarda che ha un valore Quella cosa lì Quella bandiera Straordinario Cioè sta girando l'Italia Sono contento Mi hai mandato anche delle foto Delle immagini Che faccio vedere I nostri amici che ci seguono Da Bergamo TV Qua c'è il mare bellissimo Ma questo è Calabro? Mare Calabro? Eh, sì, sì, sì Sì, sì, sì Tutto Calabro Mamma mia Guardate che bella Che è l'Italia Che ci sta facendo vedere Vincenzo Del mare Ionico Dallo Ionio Qui vediamo Ecco la tua tenda La bicicletta Di Vincenzo Sono le prove Anche per la Giussi Che ho toccato l'acqua Ah, ecco Sì, sì, sì Aspetta, aspetta Perché ci arriviamo Queste sono le foto Attenzione Qua c'è Calabrisella bella Ma ti hanno Ti hanno detto qualcosa Dice Ma dove arrivi? Dove arrivi? T'hanno chiesto Ma lei di dove? Eh, cosa hai risposto? Allora Mi capita spesso Che magari mi fermo In un paese Per riposare O per mangiare qualcosa E mi vedono con le borse Oh Non ce n'è uno Che non si ferma Eh, bellissimo Però Mi raccontano Della zona Mi raccontano Ce n'è uno ieri Mi ha detto Tutta la situazione Sociopolitica E culturale Del suo paese Sono straordinari Le persone Veramente hanno Hanno questo desiderio Di conoscere Di sapere È vero Effettivamente è così Se invece Un catanzarese Dovesse arrivare qua A Bergamo Eh Diceva Che abbiamo da fare Che abbiamo da fare noi In questo momento Eh Gaboteca è sto È vero? Allora Aspetta Vincenzo Perché andiamo a vedere Ecco qua Lo vediamo Con i piedi In ammollo Con i piedi in ammollo Dei piccoli video Che abbiamo mandato Guarda che Che bella immagine Che mare era questo? Sempre quello Lo Ionio Giusto? Eh Sì 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 Quello è a sud Di Catanzaro A sud Di Catanzaro Quindi Sì Una quarantina Di chilometri a sud Parte Parte Ionica Vediamo Sono i primi video Aspetta Perché non Non riesco a farlo muovere Questo Questo video Sono Gli unici video Che non si muovono Delle Del nostro Aspetta Vediamo se riesco A risolvere Il problema Perché ci tenevo A fare vedere Queste cose Comunque In ogni caso Guarda Possiamo dire Vincenzo Che i piedi in acqua Li hai messi Ecco Magari Non vediamo Gli altri Gli altri video Non so per quale motivo Il tutto si è fermato Però Ecco Garantito Che lui Ha toccato L'acqua Del mare Ma ti sei immerso Vincenzo? No Sono i piedi Ma no Ma dai Ma è che è fredda È fredda Col caldo che fa Vincenzo Va bene Senti Allora Intanto Ti ringraziamo Come sempre Buon viaggio Quindi prossima meta Dove ti troviamo Fra qualche giorno? Starei puntando Taranto Taranto Quindi Puglia Puglia Fai tutto Fai tutto Ma fai anche il Salento Volevo Prima scendere Verso un paesino Si chiama Ugento A trovare degli amici Che probabilmente Mi fermerò Penso Ecco qua L'abbiamo perso Molto bene Vediamo un po' Se riusciamo A ritrovare la linea Con Con Vincenzo No nulla Capita così Con Con Skype Lo salutiamo Lo ringraziamo La prossima settimana Insomma Vedremo anche Le immagini Adesso è in verticale Lo vedremo Dalla Puglia E poi via via Insomma salirà Lo stivale Fino ad arrivare a Bergamo Io spero che lui Arrivi prima Del termine Della nostra trasmissione Che come sapete Il primo di luglio Che Ecco Ci possa raccontare Questo viaggio Magari qua in studio Con l'azione Con Radio Alta Radio Alta Ciao